un po' tutti abbiamo la percezione di aver ricevuto troppo poco dalla vita dalla nostra storia dalla nostra esistenza dalla nostra identità e anche da dio la preghiera di davide invece ci presenta un'altra storia un altro volto davide ringrazia il signore non solo per quello che ricevuto ma per una pienezza inimmaginabile davide è lo specchio di ciascuno di noi noi come davide tante volte non siamo consapevoli di quanto dio ha fatto nella nostra storia e siamo più inclini a vedere le ferite a vedere a vedere buio a vedere il male ma quando abbiamo questa percezione allora faremo come dice oggi il vangelo quello di mettere la luce non sotto il letto sotto il moggio ma sopra il cantelabbro perché abbiamo una ricchezza che va vista da tutti e quanto si parla della misura la misura di quell'infinito che tante volte noi non abbiamo la percezione se noi misurassimo con gli occhi della realtà della concretezza della verità vedremmo l'infinito nella nostra storia che il signore ci doni questo cuore di davide questo cuore di gratitudine e questa consapevolezza della straordinarietà che dio compie nella storia di di ciascun uomo buona missio